Siamo qui con Torriani, la partita è appena finita, pareggiato all'ultimo, una partita di sofferenza. Prima cosa che ti chiedo è, abbiamo visto soprattutto il primo tempo dove la partita non è stata molto fluida, tanti interventi anche abbastanza fisici. Come l'avete vissuta per una partita così intensa e importante perché eravate appaiate quasi come punteggio e perché magari non siete riusciti subito a cercare di sbrogliarla? Ma al primo tempo abbiamo dovuto prendere un po' le misure, secondo me. Loro comunque sono una buona squadra, infatti sono là in alto come noi, era uno scontro diretto, si è visto, due buone squadre e niente, il primo tempo è stato molto combattuto. Poi nel secondo abbiamo cercato di esprimere un po' di più il nostro gioco, abbiamo creato qualche occasione, abbiamo presa negli ultimi minuti, è stata una partita combattuta come dice la classifica, infatti siamo molto vicini con il punteggio. Ecco, guarda, ti chiedo, partita combattuta, tu sei stato al centro del gioco perché veramente si ha recuperato palloni che ha impostato, quindi è stato veramente fondamentale. Ti chiedo, nel tuo ruolo, molto delicato, come la vive una partita del genere? Cosa senti di dover fare per cercare di cambiarla? Allora, ci sono state molte fasi altalenanti, l'abbiamo visto tutti. Ci sono alternati momenti in cui si giocava più palla lunga, momenti in cui si giocava più palla per terra, momenti in cui bisognava attaccarli forti, momenti in cui bisognava un po' respirare. E niente, dipende un po' dalle fasi della partita, cerchiamo di adeguarci, ma come me tutti gli altri. E niente, dispiace per il risultato, ma vogliamo vincere e vogliamo restarla in alto. E adesso vedremo, non so cosa ha fatto la subbiatese, ma quello è l'obiettivo. Bisogna macinare punti e pensare subito alla prossima e farne tre. Ecco, quindi dal punto di vista del morale, diciamo, partita impegnativa, però siete carichi per le prossime? Quello sicuramente, quello sicuramente non vogliamo, adesso pensiamo subito testa alla prossima. C'è un po' di amarezza e rammarico perché come dicono gli amici le dute, basta. Beh, grazie. Grazie a voi.